Che stai facendo? Prelevo un campione del liquido spinale. Will dov'è? A scuola. È doloroso. Ci aiuterà a capire la causa della malattia. Perché non sei a scuola? C'è consiglio di classe. Soltanto per la tua? Sì, non so neanche io perché. Vuoi aiuto? Ok, tu mi fai da infermiere e io evito di chiamare la tua scuola. Prendigli le gambe e spingi le ginocchia verso il petto. Tienilo fermo così. Non fanno altro le infermiere? Il capo di questo reparto non si fida tanto di loro. Credi che morirà? No. Non morirà nessuno. Ma è più nel mondo. È grandioso. Io volevo dire... Lo so benissimo. Ma so che succedono le cose brutte. Papà beveva sempre quando uscivano e diceva che non aveva problemi a guidare. Finché non ne ha avuti. Stavolta vorrei saperlo prima. Non siamo neanche lontanamente ad uno stadio simile. Chiaro. Adesso lo giriamo. Cosa è successo? Che cosa gli hai fatto? Rafferty. Giallo. Dì. Sperol. Dì. Sperol.